Buongiorno, Elisabetta Corzano, Bank Marketing Manager dell'Italia, sono qui per presentare il nuovo target, l'Attitude ST. Si tratta di una soluzione ideale per i professionisti che hanno bisogno di mobilità estrema. È fondamentale posizionare il prodotto per un gruppo che si risponde a quello che ha un bisogno di produttività, ma anche un bisogno di sicurezza e di gestione delle pazze macchine. Perché? Perché questo sistema, questo tablet, uscirà con il sistema operativo Windows 7 e quindi permetterà di integrare il tablet facilmente all'interno delle ricartezzate. Si tratta di un monitor 10 pollici con tecnologia Kornag Gorilla Glass che permette logicamente un utilizzo e soprattutto una resistenza controverso quelle che possono essere degli ultimi. È protetto all'esterno con protezione di gomma e se lo rigiriamo alla parte posteriore ritroviamo la gomma proprio per proteggere il momento in cui si appoggia il sistema e una protezione anche in alluminio. Per quanto riguarda le porte a disposizione abbiamo qui una porta HDMI, uno slot SD per le card reader, una porta USB, una porta per audio, su tasto control alt cance. È previsto un alloggiamento per una penna dedicata, interattiva, accensione, volume e possibilità di configurazione e spostamento della visualizzazione. Il prodotto è previsto lancio globale per il mese di novembre. Come garanzia c'è una garanzia next business day e rientra all'interno della categoria l'hardwood, quindi una gamma professionale. Come opzione c'è la possibilità di upgrade al supporto pro support che permette di avere un'assistenza non solo hardware ma anche software con un numero dedicato e l'intervento del tecnico giorno dopo la chiamata. Proprio per questo è importante, mentre qui abbiamo dei clienti che hanno difficoltà e che hanno bisogno di contattare il supporto tecnico, potranno contattarvi 7 giorni su 7, 24 ore su 24, con possibilità di parlare con tecnici specializzati di secondo livello.